Noi sentiamo la responsabilità di non partecipare a un voto come quello di domani in Senato, coerentemente a quello che abbiamo fatto alla Camera e in Consiglio dei Ministri. Sapevamo che questo decreto aiuti non era sufficiente, non per niente Draghi se ne è reso conto e ha illustrato a grandi linee un decreto per la fine di luglio, e quindi evidentemente è vero che non era sufficiente quel decreto. Il governo Draghi è arrivato dal capolinea? No, non mi piacciono a me queste espressioni, capolina e non capolina. Noi abbiamo posto una questione, la stiamo ponendo con forza e riteniamo che appunto questo decreto che verrà è figlio di questa nostra azione politica. Salvini ha già detto che domani se non sarete in aula la maggioranza non ci prende. Salvini, sentiamo cosa dirà domani Salvini, cosa dirà dopo domani, ascolteremo. Grazie.